Siamo per arrivare al lago Cavo, è in quella buca là in fondo. Una volta siamo andati dalla parte opposta, dove l'altra volta siamo venuti via. Lo vedi Mari? Lo vedi là in fondo? No, l'acqua non ne vedo. L'acqua no, perché è quasi tutta erba. Di acqua ce n'è poca. E' un lago di origine glaciale, ma c'ha la sorgente. Lo vedi adesso? Un po' sì. Ah, eccolo. Ora lo vedo. Quando siamo venuti noi era tutto verde. E' più alto, io non lo vedevo. Quando siamo venuti noi era tutto verde. Bellino. Adesso andiamo qua sulla destra, che speriamo di vedere i tritoni. Altra volta ho visto i pesci e i rane. Hai quella a fare marrone che è allora? Sono erbe che si sono seccate. Che è seccata. Bello però. Una bella vallata. Speaker passa bene. Allora ho visto. Oh. 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 Errò va tutto. Oh. Oh. Eh. Oh. Ah. ecco siamo sulle rive del lago cavo adesso è uno dei punti più bassi perché è estate adesso raggiungerà in agosto appena un po' più basso ma qui un po' d'acqua c'è sempre perché c'è una sorgente oggi stranamente non si sentono le rane che di solito fanno un casino atomico andiamo di riuscire a vedere un tritone oggi chissà è piovuto ieri c'è un po d'acqua torbida che fai? no ma siamo messi malissimo no non ci vedono neanche i pesci oggi si vede che la sorgente là non ci hanno chiuso a mangiare no ci hanno chiuso a mangiare comunque dell'acqua c'è andata perché è a fondo si? eh si guarda lì che un po' è forte che pazienza andiamo a vedere la sorgente non da un po' forte eh se io solo l'acqua venisco qui sorgente qua e qui esce l'acqua ora facciamo il giro no teniamo indietro per me vedi sono fermate là non vengono